Allora, buongiorno, benvenuti, siamo alla seconda giornata di Digit e sono con noi due personaggi che magari conoscete già e che sono in giro per l'Italia in questo periodo parecchio, davvero molto perché stanno presentando un libro che hanno scritto e di cui naturalmente parleranno anche oggi ma naturalmente loro non sono qui per parlarci soltanto del libro ma per chiarirci una serie di concetti che sarebbe davvero interessante che tutti approfondissimo perché lo stare in rete presuppone una cultura che purtroppo nessuno ci sta propinando nel modo corretto e soprattutto non c'è uno sforzo da parte delle istituzioni per fare entrare questo tipo di cultura negli usi e costumi della nostra popolazione. Quindi cominciare a parlare un pochino davvero di come si sta in rete, ce lo racconteranno dal loro punto di vista quindi Veragheno è una sociolinguista, lavora all'Accademia della Crusca, lavora all'università, scrive libri, gira il mondo fa personaggio televisivo, il pomeriggio su Rai Uno spesso e volentieri insomma soprattutto si occupa appunto dell'uso delle parole Bruno Mastroianni è un giornalista anche lui ah non anche lui perché Vera non è una giornalista che è l'unica cosa che non è ma tutto il resto Bruno è un giornalista, è anche un filosofo quindi si occupa anche di studiare le evoluzioni della conoscenza e in più è un social media manager quindi ha per compito precipuo nella sua vita moderare i commenti, gestire i commenti sopra una bacheca e quindi in questo tipo di lavoro simile che hanno entrambi perché Vera lo fa per la Crusca su Twitter Bruno lo fa su Facebook per alcuni programmi della Rai tra l'altro alcuni programmi molto famosi uno fra tutti Super Quark del grandissimo Piero Angela e quindi insomma evidentemente ci sono delle cose che nella loro esperienza professionale hanno fatto sì che si accumulassero delle conoscenze che loro poi vogliono riportare la cosa più interessante fra le molte cose interessanti che loro dicono nel libro è proprio quella dell'usare anche la comunicazione malevola la cosiddetta comunicazione hate speech la comunicazione dei troll, degli haters delle persone che teoricamente sono lì per fare dei danni per farla diventare un momento di comunicazione vero e quindi comprendiamo i motivi dietro a questa cosa ma soprattutto moderiamo i commenti che è la cosa principale che purtroppo proprio nel nostro comparto nel comparto dell'editoria non avviene per motivi che veramente ci sfuggono e quindi darei la parola a Bruno e a Vera grazie a voi e vi do il microfono allora buongiorno è bello vedervi qui a questo orario antelucano quindi siamo felici di iniziare così la nostra giornata e anche di iniziare con voi la nostra giornata proseguo un attimo nella questione di chi siamo e che ci facciamo qua perché la reputo abbastanza necessaria anche per capire il lavoro che stiamo facendo o che ci siamo impegnati a affrontare io sono effettivamente una sociolinguista quindi mi occupo non tanto di storia della lingua di strutture linguistiche eccetera quanto di una cosa volendo molto più prosaica che è come parlano e come scrivono le persone e soprattutto che cosa racconta di ognuno di noi il modo in cui usiamo e non usiamo le parole di solito tradizionalmente la sociolinguistica che ha delle radici piuttosto antiche siamo negli anni 60 del 900 antiche per modo di dire ma insomma non è proprio una cosa dell'altro ieri ma andava direttamente sul campo cioè c'era un elemento di etnografia molto rilevante che era di andare a intervistare le persone andare a osservare i loro usi e costumi linguistici e molto presto ci si rende conto che gli usi e costumi linguistici corrispondono a usi e costumi culturali, sociali e così via quindi noi siamo nel nostro parlare nel nostro scrivere il prodotto di un processo molto lungo che parte di fatto nel momento in cui nasciamo e veniamo esposti ai primi input comunicativi con altri esseri umani allora nella mia vita da 20 anni effettivamente lavoro in Crusca prima alla redazione della consulenza poi alla redazione del sito web eccetera dal 2012 gestisco in maniera esclusiva il profilo Twitter dell'ente su Facebook invece la mia collega Stefania Giannizzotto che fa lo stesso lavoro quindi siamo un team ma abbiamo anche la fortuna di essere in larga parte indipendenti l'una dall'altra e quindi ognuna delle due posta commenta e condivide tanto per citare il nostro libro in maniera abbastanza indipendente anche a seconda di quello che vede le discussioni che vede online e quindi in base a quello uno si muove oltre a questo insegno da 17 anni rigorosamente a contratto all'Università di Firenze dove tengo un laboratorio di italiano scritto questo mi permette di incontrare i ragazzi al terzo anno di Scienze Umanistiche della Comunicazione e quindi anche di vedere la questione linguistica da un altro lato ancora che è quello delle persone che intraprendono un percorso universitario e qui un percorso universitario basato sulla comunicazione e elemento secondo me molto interessante in realtà spesso non sanno scrivere molto bene il che ovviamente apre una serie di ragionamenti a cascata che qui non possiamo fare su come mai abbiamo così tanti adulti di medio alta cultura perché comunque bene o male all'università ci sono passati, ci sono stati tre anni che però hanno grossi problemi con l'ortografia con la sintassi e così via cioè questa non è una questione universitaria è una questione sistemica che poi ha dei risvolti anche su come ci comportiamo online allora questa è un po' la cosa Bruno è un filosofo e questo già indice di alcune patologie mentali piuttosto gravi è un filosofo, è un social media manager lavora al momento per Super Quark e per la grande storia che è quella di Rai 3 non da non sbagliare con il canale Rai Storia che sono due cose certo però è un'altra cosa è un'altra parrocchia giustamente ovviamente anche lui dalla mattina alla sera battaglia con il grande mondo delle persone che possono comunicare in rete, sui social cioè tutti il che gli dà una possibilità di ascoltare il polso della situazione ancora da un altro punto di vista la cosa interessante è che ognuno di noi ha scritto negli anni passati dei libri Bruno ha scritto un libriccino che si chiama La disputa felice di sentire senza litigare sui social media in pubblico sui social network in pubblico e sui media io non mi ricordo mai il sottotitolo scusami io ho scritto vari libri due prima vabbè insomma non è rilevante ma la cosa interessante è questa per promuovere questi due libri noi negli ultimi due anni abbiamo fondamentalmente girato l'Italia dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanare al Reno incontrando letteralmente persone di ogni genere moltissime scuole perché chiaramente occupandomi io di linguaggio dei social Bruno dei discussioni le scuole manifestano interesse per questo argomento perché ormai che ci sia una questione digitale è abbastanza chiaro ma non solo siamo finiti diciamo che noi dove ci chiamano andiamo in maniera abbastanza democratica per usare un modo di dire trito e ritrito a 360 gradi cioè dove serve noi ci siamo e in questo nostro peregrinare quindi siamo finiti anche in posti molto strani in luoghi dove non saremo mai finiti in associazioni di anziani l'altro giorno per esempio per una cosa mia ma ero a Castelnuovo Val di Cecina cioè uno deve proprio andare a cercare come dire i posti sulla cartina questa è una cosa molto interessante ma è anche molto interessante lo spaccato umano e sociale che abbiamo incontrato in questi anni ok tanti studenti dalle elementari dalle quinte elementari ai master universitari quindi una casistica molto ampia università della terza età associazioni di anziani associazioni scusate enti culturali aziende quindi personale aziendale quadri dirigenti e così via e c'è un elemento che accomuna tutte queste persone l'elemento è questo che ci sia come dicevo poco fa una questione digitale è chiaro a tutti l'approccio però non è altrettanto pacifico perché? perché quello che noi abbiamo sentito nel corso di questi anni è si parla quasi sempre di quello che non funziona si parla della cosiddetta comunicazione deragliata comunicazione disfunzionale comunicazione malevola la si può definire in tanti modi ma il succo è dalla scuola alle aziende si parla di hate speech di cyberbullismo ovviamente questo è il contesto più scolastico ma non solo di fake news no? e così via e tutti avevano come dire ben chiara questa cosa parliamo sempre di ciò che non parliamo dell'incidente e allo stesso tempo però quasi tutti dicevano ma per prevenire gli incidenti invece che ragionare solo sugli incidenti che bisogna fare? come si fa a vivere felici e connessi? questa era un po' la cosa che in un modo o nell'altro ci chiedevano tutti cioè ci potete dare dei consigli perché d'accordo nella scuola in una scuola di 1500 anime ci sono tre noti bulli che si sono poi evoluti in cyberbulli ma gli altri 1497 che invece vorrebbero solo stare pacificamente in rete usando i social media usando google eccetera che devono fare? allora partendo un po' da questa cosa da questo desiderio che continuava a tornare fuori questa richiesta alla quale noi non abbiamo in realtà una risposta ci è venuta un'idea l'idea è stata di scrivere questo libro che si chiama tienilo acceso posta commenta condividi senza spegnere il cervello che è uscito a agosto del 2018 e che noi da allora stiamo per così dire portando in tournée ma non per forza il libro ma l'idea che c'è dietro e l'idea che c'è dietro viene come tentativo di risposta a questa domanda che ci è stata fatta un po' ovunque e anche come testimonianza del fatto che secondo noi è possibile vivere felici e connessi cioè in un mondo che oggi è molto preso dalla retorica dello spegnere del digital detox dei dieci passi per chiudere tutti i tuoi profili social del è più bello guardarsi negli occhi dell'odore della carta perché ci mettiamo dentro anche questo noi abbiamo detto d'accordo è tutto vero tutto vero è bellissimo guardarsi negli occhi è necessario anche darsi una regolata nell'uso dei mezzi digitali ma tutto questo non risponde a una domanda che cosa fare quando poi eventualmente a un certo punto quello strumento lo accendiamo allora non vuole essere un peana al digitale e al fatto che dobbiamo tutti imbesuirci davanti al cellulare o al tablet per carità ma la cosa è diversa è tenendo conto del fatto che bisogna darsi una regolata nel momento in cui tu usi quell'affare come usarlo allora e a questo punto mi alzo perché ho bisogno della mia lavagnetta io l'unica cosa che farò è usare cinque espressioni chiave le stavo contando perché non mi ricordo uno, due, tre, quattro, cinque dirò tre cose e poi sono quattro allora quando si parla di come usare bene la nostra connessione quasi inevitabilmente si finisce a parlare di strumenti cioè di come usare gli strumenti il corso che si fa a scuola è per usare gli strumenti fai un corso di formazione usi il pc bene il tablet bene eccetera io vorrei tornare invece a una competenza noi scusate vorremmo tornare invece a una competenza che è prettamente umana e che se ci pensiamo bene è alla base dello stare non solo in rete ma dello stare al mondo e del vivere le relazioni che è questa parola qua parole perché parole la parola parola così fatto proprio cosa hai fatto hai buttato grazie è il mio fan numero uno lui allora perché parole perché forse questa è la mia deformazione dal linguista vorrei farvi notare una cosa allora noi siamo gli unici animali che hanno il dono della parola chi di voi ha delle bestie in casa figli esclusi intendo proprio quadrupedi sa che un cane e un gatto in realtà non fanno solo bao e miau ma hanno una gamma larghissima di modi di comunicare quindi comunicano diciamo non hanno la parola ma poco ci manca infatti di solito proprio i proprietari di padroni o i conviventi scusate i conviventi di cani perché non vogliono farsi chiamare padroni di cani dicono che in realtà gli manca solo la parola quindi non è che nessun altro animale comunica ma una peculiarità completamente umana è quella di avere un sistema di comunicazione evoluto e astratto come quello della parola cioè nessuno ha questa competenza se non noi succede una cosa buffa siccome come accennavo all'inizio noi impariamo a parlare a comunicare in situazioni di normalità prestissimo cioè ancora prima dell'asilo in realtà noi abbiamo già un modo di comunicare ricchissimo arriviamo a una certa età che lo diamo per scontato cioè tanto parliamo usiamo le parole eccetera e allora cosa succede succede quello che già diceva Calvino 30 anni fa quindi Italo Calvino non è una cosa nuova non ho inventato nulla tendiamo a usare le nostre competenze linguistiche in maniera sciatta superficiale senza pensare con attenzione a quello che le parole stanno facendo e invece le parole hanno un ruolo importantissimo non sono casuali e hanno delle conseguenze anche molto rilevanti fate conto sono una cosa esistono gli atti linguistici cioè esiste una cosa che se io giuro se io sono in tribunale e giuro se io invece poi non mantengo il giuramento posso pure andare in galera cioè giurare se ci pensate che è una cosa di una solennità enorme in realtà è semplicemente qualcosa di formulaico fatto con le parole manco lo devo suggellare col sangue come si faceva una volta cioè la potenza della parola la parola può se io sono un sacerdote per esempio la parola mi permette di sposare due persone cioè la parola non c'è bisogno di fare l'atto per forza allora cosa si fa con le parole fondamentalmente noi con le parole facciamo tre cose la prima è nominare il mondo quindi siamo addetti a cartellinare la realtà questo non lo fa nessun essere superiore e non lo fa nessun ente lo facciamo noi siamo noi che diamo i nomi alle cose l'abbiamo sempre fatto e sempre lo faremo ovviamente ci relazioniamo con gli altri tramite le parole pensateci un attimo ci si può invaghire di una persona perché è bella perché abbiamo visto una foto ma quando è che proprio ci si innamora veramente quando la senti parlare perché ecco e questa è la grande cosa perché parlando o leggendo quello che ha scritto tu puoi cogliere cos'è quella persona cosa pensa cosa ritiene rilevante il suo pensiero la sua formazione la sua cultura eccetera eccetera fra questi aspetti ce n'è uno che mi interessa ancora di più perché diciamo che la questione cartellinare visione del mondo e la questione relazione con gli altri sono il campo di Bruno io mi occupo di un'altra cosa che è questa la scrivo e poi ve la dico perché magari da dietro non si vede bene atti di identità la parola come le parole come atti di identità in sostanza noi siamo le parole come dicevo all'inizio che scegliamo e non scegliamo di usare ogni volta che noi facciamo una scelta anche quella apparentemente fatta così un po' con nonchalance in realtà noi compiamo un atto di identità cioè io ti sto dicendo cosa sono chi sono ti sto dando tutta una serie di informazioni enormi fra l'altro alcune di queste informazioni sono volontarie cioè uso le parole giuste per ottenere per esempio un certo tipo di risposta dal mio pubblico non è che debba per forza manipolarvi però posso fare la battuta posso fare tutta una serie di operazioni volontarie e moltissime operazioni invece sono involontarie ad esempio nel momento in cui ho aperto bocca voi già vi siete immaginati da dove vengo o perlomeno dove sono cresciuta e questa è una caratteristica molto italiana che ogni volta che un italiano apre bocca diciamo che nel primo minuto si capisce se è di Roma se è siciliano se è sardo se è umbro se è friulano e così via ma quando io geolocalizzo è finita lì ah è siciliano ah è trentino fine no perché perché in realtà ognuno ognuno di queste come si può dire questi riconoscimenti geografici che io compio su una persona che non conosco si porta dietro una serie di bias cioè di pregiudizi tu non hai ancora iniziato di fatto il tuo discorso ma io per il fatto che ho sentito che sei siciliano veneto milanese eccetera mi sono già fatta un film su di te questa è la potenza dell'atto linguistico involontario chiaramente io posso ridurre il mio accento ma di solito a meno che uno non abbia fatto teatro edizione eccetera questo passa sempre cioè Tullio De Mauro amava dire che nessuno in Italia parla l'italiano standard tutti appena apriamo bocca in realtà parliamo una varietà regionale in maniera più o meno esplicita però anche in televisione mentre una volta si teneva conto si teneva molto di conto il fatto che si fosse più standard possibile oggi è perfettamente tollerato e secondo me è anche bello che una persona parli con l'accento della propria regione non dico dialetto dico italiano regionale che è un italiano con delle venature regionali allora il problema è che la maggior parte delle persone che non ha fatto un percorso metacognitivo sulla lingua cioè che non è stato portato a pensare a riflettere ecco sui propri usi linguistici questi atti di identità li fa in maniera scomposta sprecisa e spesso dandosi la zappa sui piedi cioè la maggior parte delle persone si incasina da sola per esempio le persone che si presentano con nome e nome cioè sono Rossi Mario questo in Italia è una cosa che ha uno stigma di substandard cioè vuol dire che se tutti i presenti sono Rossi Mario salve Rossi Mario già fai la figura di quello che ha studiato poco anche se magari non è vero però il pregiudizio è molto forte allora una delle cose che io mi sono posta come come si può dire cose da fare nella vita è far capire alle persone che quando tu fai un certo tipo di scelte linguistiche non offendi la tua prof di grammatica o non offendi il sistema ti stai facendo un danno e io questo lo traslo molto anche nell'online cioè le persone che come dire fanno i buzzurri online spesso fanno più danni a se stessi che agli altri questa è una cosa che poi aiuta anche a ragionare però passiamo alla terza parola visto che ho nominato l'online la terza parola è questa mini VIP nel senso di piccoli personaggi pubblici non solo ognuno di noi fa costantemente atti di identità ma è cambiato il contesto in cui noi facciamo questi atti di identità prima della rete prima dell'iperconnessione in cui viviamo oggi fondamentalmente noi crescevamo in un milieu cioè in un contesto che era abbastanza circoscrivibile il proprio paese la propria città la propria famiglia il proprio gruppo di amici e così via da quello si usciva in certi momenti ma in sostanza si viveva in una realtà di cui si conoscevano i limiti e poi c'era l'esotico che uno poteva abbracciare ma era un'altra cosa adesso cosa è successo è successo che si sono aggiunte delle dimensioni a questa nostra vita a questo nostro milieu e una di queste dimensioni è proprio quella dell'online con l'online cosa è successo intanto possiamo conoscere molto di più vedere molto di più viaggiare anche mentalmente molto di più ma dall'altra parte noi ognuno di noi è più visibile di prima che cosa succede avete presente come vivono i VIP i VIP sanno che se fanno una leggerezza che magari per noi persone comuni è perfettamente normale tipo scendere a scusate lo dico come si dice in crusca scendere a pisciare il cane in ciabatte o in pigiama magari con la giacca sopra se uno ha un cane può essere che sia andato a fargli fare la pipì non vestito proprio come dire da milord ecco se lo faccio io non gliene frega nulla a nessuno normalmente se lo fa non lo so una subrette televisiva un presentatore un politico ecco che quasi sicuramente nel cespuglio c'è il paparazzo che gli fa la foto e viene creato lo scoop la notizia che poi in realtà è una non notizia però così funziona il gossip il pettegolezzo si basa tutto su non notizie allora quello che è successo oggi è che grazie o a causa di questa lente che può essere anche deformante della rete è come se tutti noi fossimo diventati dei piccoli VIP vuol dire che io esco faccio una cosa sovra pensiero e magari non lo so mi metto un dito nel naso una cosa che nel privato ognuno di noi magari fa ma sa di non dover fare in pubblico ecco io la faccio andando al parco qualcuno vede la scena anche senza riconoscermi per forza ma gli fa ridere che ci sia una persona adulta col dito nel naso mi fa una storia e la mette su Instagram guarda questa buzzurra che sta col dito nel naso dopodiché quella storia inizia a girare qualcuno la vede qualcuno che mi conosce la vede dice ma quella è Veragheno e la cosa inizia a avere come dire l'effetto palla di neve cioè io perfetta sconosciuta perché di fatto non sono certo una VIP in nessun modo ecco che come dire sono stata derubata di un momento privato che però io ho fatto in pubblico quindi ho la mia parte di colpa e quella cosa diventa magari un meme un'immagine che fa ridere qualcuno ci mette sopra un testo che fa ridere ancora di più eccetera eccetera questo è un pericolo ma è anche una grandissima opportunità perché perché non dobbiamo pensarla solo in modo difensivo cioè io penso che piuttosto che riflettere troppo sugli incidenti che uno può fare è bene pensarci prima cioè ci sono delle strategie preventive che possono permettere a tutti i singoli cittadini cioè le persone comuni di contrastare questa tendenza all'ipervisibilità di ognuno di noi e Bruno nel libro usa una parola che lui prende dalla nonna ma che ognuno di noi avrà preso dai propri nonni che è contegno noi dobbiamo imparare a darci un contegno come ce lo diamo per strada come ce lo diamo quando siamo in pubblico a meno che non abbiamo delle patologie ma quella è un'altra questione così ce lo dobbiamo dare anche online perché che ci crediate o no la maggior parte dei problemi di comunicazione della gente comune avviene perché si comporta in rete come se fosse nel salotto o nel bagno di casa propria invece che in piazza invece che in pubblico infatti un'altra cosa che dice Bruno è la cosa più semplice è sostituire la definizione online con la definizione in pubblico cioè tu quando posti su Facebook per quanto possa essere ristretta la privacy del tuo profilo per quanto il tuo profilo Instagram possa essere chiuso per quanto tu quella cosa l'abbia scritta in un gruppo di Whatsapp tu hai creato una cosa che è replicabile all'infinito e sulla quale in realtà tu non hai un pieno controllo questo mi porta alla penultima parola che userò che è lunga e che sbaglierò sicuramente a scrivere che è permeabilità permeabilità credo non ci sia bisogno di spiegare cosa vuol dire l'incontrario di impermeabile allora permeabilità di che tipo io ne vedo tre la prima è permeabilità fra online e offline tutto quello che tu fai online può avere delle conseguenze nella vita reale tutto quello che fai nella vita reale nel senso fisica può avere conseguenze nella vita online il primo errore che noi facciamo è ragionare a compartimenti stagni cioè ragionare dell'online dei problemi dell'online come se non fossero in realtà i problemi della vita cioè questa è la cosa di cui ci dobbiamo rendere conto non ghettizziamo l'online come se fosse una cosa isolata perché in realtà è solo una parte ormai delle nostre vite volenti o nolenti in che senso volenti o nolenti nel senso che tra di voi ci saranno sicuramente persone che non stanno sui social che non partecipano a questa specie di bar collettivo come lo chiama qualcuno che è quello delle discussioni online ma vi getto un quanto di sfida e lo getto anche a loro provate a googlarvi andate su google cercatevi nome e cognome fra virgolette e sono abbastanza sicura che nella stragrande maggioranza dei casi voi troverete che esistono informazioni su di voi online che magari non avete messo voi ma sicuramente più di quelle che vi potreste aspettare allora cosa succede succede che se non siete voi a curare il discorso pubblico che vi riguarda in rete lo fa qualcun altro e se lo fa qualcun altro voi state delegando ad altri quella famosa prima impressione che il perfetto sconosciuto si potrà fare di voi facendo quello che ormai tutti fanno di routine quando devono assumere una persona invitare un relatore controllare una persona a cui devono affittare un airbnb eccetera che è guardare su google che persona viene fuori dalle tracce che ha lasciato in rete meno si pensa a questo problema cioè meno ci si rende conto che quello che tu lasci online in realtà ha delle conseguenze praticissime e viceversa ecco e peggio è la prima cosa che tutti devono capire è questa io lo dico tantissimo ai ragazzi ai ragazzini ieri ero a dove ero? a Potenza ieri mattina ero a Potenza in un liceo e un ragazzino mi fa ma lei mi sta dicendo che se io adesso rubo un motorino e finisco sul giornale per questa cosa se fra dieci anni un datore di lavoro mi vuole assumere mi googla vede quella cosa lì e magari non mi assume per quella cosa lì e io ho detto sì esattamente quello sto dicendo eh ma non si può mica questa è discriminazione sì è discriminazione infatti non possiamo evitare di fare errori perché siamo umani per fortuna però voi ragazzi di oggi crescete in un mondo in cui le cavolate che io ho fatto in incognito voi avete un po' più di difficoltà a farle in incognito perché vi fanno la storia vi mettono la diretta su facebook mentre siete ubriachi fradici eccetera eccetera più tutto quello che farete voi tipo faccio questo caso e poi vado all'ultima parola chiave così lascio gli ultimi dieci minuti a Bruno come al solito no c'è meo sto giochino dice sono un po' prevaricante ma non è vero esempio persona con un ottimo curriculum in relazioni interculturali master in mediazione di altissimo livello ottima competenza plurilinguistica eccetera eccetera manda il curriculum a una ONG che si occupa di migranti sulla carta è il candidato perfetto lo googlano e i primi cinque post del suo social uno a caso mettiamo twitter o facebook sono per fortuna quei barconi sono affondati questi negri schifosi ma mood è un meticcio è inutile che faccia finta di essere italiano voi capite che davanti a questo come dire esposizione di idee di questo genere la persona pur con un CV da paura non è stata assunta e questa è una cosa che noi dobbiamo ricordarci molto bene ma io ho studiato tanto sì però se poi nel privato del tuo profilo che tanto privato non è spari in questo modo veleno spargi in questo modo veleno io ho il diritto di non assumerti e non voler avere a che fare con te questo è il punto ho parlato di permeabilità online e offline ma allo stesso modo ricorderei un'altra cosa permeabilità ambito lavorativo ambito privato cioè qualunque professionista deve rendersi conto che non può nascondersi dietro alla giustificazione ma questa cosa io l'ho detta col mio profilo privato no perché sei sempre tu cioè noi non abbiamo una come dire persona lavorativa e una persona privata abbiamo una faccia lavorativa una faccia privata e possiamo anche stare molto ben attenti a lasciare private certe cose ma nel momento in cui noi facciamo una dichiarazione pubblica da privati è molto probabile che quella dichiarazione possa influire anche sul nostro ambito lavorativo e qualche settimana fa abbiamo proprio avuto una dimostrazione di questo ora non ve la sto a raccontare però diciamo grosso incidente diplomatico successa una persona che con profilo privato aveva sparato a zero su una certa parte politica la persona era stata googlata si era scoperto che apparteneva a un'associazione di sinistra eccetera eccetera ed era stata oggetto di una cosiddetta shitstorm si chiama così cioè la tempesta di cacca quando si fa un'azione organizzata per fondamentalmente sputtanare una persona pubblicamente andando a scavare nel suo passato andando a vedere le foto di quando era adolescente guarda questa che denti storti ma chi se l'è presa una così cioè arrivare a questi livelli qua è giusto sbagliato chiaramente no è un'azione di violenza collettiva in realtà di bullismo ma siccome il bullismo è una roba che abbiamo dentro purtroppo non la possiamo vietare perché esce fuori dai buchi la strategia preventiva è renditi conto che quello che dici come persona privata poi ha delle conseguenze anche negli altri ambiti l'ultimo tipo di permeabilità è quello fra contesti online non dovete mai pensare che se scrivete una cosa in un contesto non finisce in altri cioè ma io quella cosa l'ho scritta su whatsapp fra i miei cinque amici del cuore nemmeno quello potete controllare una perché la volta successiva che uno dei vostri cinque amici si secca con voi magari riesuma quel testo lo screenshotta cioè ne fa una foto e lo porta in un altro contesto quella foto sexy di cui voi eravate tanto fieri dell'estate scorsa in cui eravate informissima no? si è arrivati in spiaggia col body proprio yeah ecco quella roba lì l'avete messa su facebook ma è privata ma voi non sapete se uno dei vostri amici non ha deciso che è il caso di esportarla da un'altra parte quella dichiarazione che avevate pensato di mettere in un certo gruppo whatsapp e per sbaglio mettete in un altro ai ragazzi ieri facevo il caso di solito tutti i ragazzi oggi alle medie hanno il gruppo scuola cioè il gruppo whatsapp degli amici della classe dei compagni di classe e poi spesso in alcune scuole ho visto c'è il gruppo con i compagni di classe e alcuni professori perché è il modo più veloce che anche i professori hanno capito sia per dare una notizia o verificare che un compito sia stato compreso eccetera allora il grande classico che è successo a mia figlia che è in prima media è ragazzino che voleva mettere nel gruppo dei soli ragazzi una roba tipo la professoressa XY era una stronza l'ha messo nel gruppo con la professoressa XY quindi l'errore l'ha fatto lui ma la strategia preventiva geniale che tutti noi abbiamo è queste cose non si scrivono perché è molto facile che vadano a finire nel posto sbagliato quando qualcuno vi chiede un parere che voi dovete dare sfavorevole su una cosa o su una persona o la dovete insultare il modo migliore a oggi rimane di persona davanti a un caffè una delle competenze che noi ci stiamo formando sulla strada e che tutti si devono formare è rendersi conto che ci sono cose che si scrivono ci sono cose che è meglio mandare con un vocale anche esiste anche il messaggio vocale e ci sono cose che è meglio dire a voce e poi come ricorda l'iscrizione sulla catacomba di Commodilla non dicere il secrita a voce ci sono cose che è proprio meglio non dire che vi potete anche tenere per voi perché noi viviamo in un contesto in cui pensiamo di dover sempre dire qualcosa cioè dover avere sempre un'opinione su tutto ma questo ve lo illustrerà meglio Bruno io vi lascio con un'ultima parola chiave che in realtà è un cognome Grais lui ha pesato alla gricia ma in realtà Grais è una vecchia conoscenza di chiunque ha fatto il corso con me ma anche di chiunque ha studiato un po' di comunicazione Grais a un certo punto negli anni settanta come si dice di Conia porta all'attenzione del pubblico quattro massime della conversazione le massime della conversazione di Grais e sono quattro consigli che riguardano il modo si chiaro la relazione parla in relazione a quello di cui si sta parlando non deviare non essere peripatetico la quantità non esagerare cioè se tu parli troppo ammazzi la conversazione avete presente che se uno si estende troppo poi alla fine l'altro si stanca di replicare ma in particolare vorrei ricordarvi la quarta massima conversazione di Grais che è quella della qualità quella della qualità dice si sincero e il si sincero lui la spiega in due modi parla di ciò che conosci bene e di cui sei convinto e potrebbe essere il consiglio finale per chi si approccia allo stare online e non sa un po' da dove iniziare è guarda un ottimo consiglio è questo parla di quello che conosci bene perché ognuno di voi qui ma in tutti gli altri consessi che noi abbiamo incontrato ha un campo in cui sa più degli altri o per esperienza diretta o per cultura o per hobby o per interesse personale ci sarà l'esperto di pallavolo l'esperto di esteri l'esperto di capelli ricci l'esperto di coltivazione dei cactus questa sarei io che è la mia fissazione da quando ero ragazzina l'esperta di puericultura e così via allora se voi imparate come modo di comunicare di base che quando si parla dell'argomento che conoscete bene intervenite stando sull'argomento e il resto del tempo invece state a osservare cioè rimanete in silenzio questo è un primo modo per affrontare la questione dell'ecologia della comunicazione il cui problema è spesso gente che parla a vanvera di cose che non conosce bene e meno le conosce e più è aggressivo nella comunicazione cioè si arriva a essere veramente aggressivi di fronte a un'idea quando in realtà le basi che ci portano a discutere non sono proprio ferme e io lo vedo continuamente con la lingua sulla questione linguistica ci sentiamo tutti titolati a intervenire da parlanti di una lingua da persone che a scuola hanno studiato la grammatica ma in realtà esiste un ulteriore livello che è quello dei linguisti che non è casuale che esistano per l'appunto che vanno un po' oltre eppure per esempio davanti a una serie di affermazioni della crusca anche chi non ha capito nulla si permette di fare delle sparate mostuose l'ultima cosa è stata quella di esci il cane se ci fate caso tutta la questione la crusca sdogana esci il cane la frase la crusca sdogana esci il cane è sbagliata per più motivi uno la crusca non sdogana nulla non è il suo ruolo tra l'altro non è un'agenzia delle dogane che sdoganare esattamente vuol dire quello e neanche vi dirà mai come una volta titolò l'ercio scrivete qual è con l'apostrofo e andatevi a quel paese che era questo il titolo di l'ercio ma molti l'hanno preso per serio il che però fa capire molto di come ragioniamo non di quello che fa l'ercio ma di come viene percepito ciò che fa l'ercio cioè se metà delle volte le notizie di l'ercio vengono prese per vere il problema non è l'ercio il problema siamo noi ma se il problema siamo noi anche la prima linea di difesa siamo noi cioè non occorre per esempio vietare le fake news dobbiamo entrare nella prospettiva di imparare a renderci conto da soli quando è che veniamo menati per il naso in sostanza lascio la parola a Bruno grazie allora dai lascia tranquillo a me piacciono i litigi mi piacciono proprio cioè da sempre studio e lavoro sul tema litigare ma perché litigare perché litigare è la strategia umana più primitiva più basilare che abbiamo per non discutere con gli altri per non avere un vero confronto è una cosa bellissima cioè noi appena riusciamo a litigare con l'altro evitiamo di affrontare l'argomento che stavamo affrontando allora vorrei iniziare leggendovi una cosa scritta da un guru che analizza i confronti e le discussioni discussioni e confronti che come sapete bene sui social network ma anche su whatsapp non è che c'è bisogno di fare grandi discussioni di dibattito pubblico sui gruppi di whatsapp prima citati davvero è uno scontro continuo allora un analista dice questo che vi leggo quando ci si trova in disaccordo su qualche punto e l'uno si accorge che l'altro non sta parlando bene non si capisce allora ci si arrabbia e ciascuno pensa che l'altro sta parlando per invidia nei propri confronti si incomincia a fare a gara per la vera e la meglio si rinuncia alla ricerca sull'argomento di cui si stava parlando e certuni addirittura finiscono col separarsi nel modo più disonorevole dopo essersi insultati e aver detto sull'altro e aver sentito su di sé cose tali che anche i presenti si pentono di aver creduto che sarebbe valsa la pena di venire a sentire gente del genere mi pare una descrizione proprio no? precisa di quello che succede tutti i giorni su facebook su whatsapp su twitter nei commenti sotto gli articoli di giornale sui siti online delle testate no? è una cosa scritta da platone più di venti secoli fa quando non c'erano né i social network né whatsapp né il dibattito pubblico come è quello di oggi cioè per dire perché questo giochino? per dire che il problema delle discussioni che finiscono il litigio ce l'abbiamo da sempre cioè non l'hanno creato le tecnologie non l'ha creato il dibattito pubblico non l'hanno creato le nostre modalità cioè non è che l'aumento delle nostre discussioni fa sì che si creano litigi è il contrario ci sono così tanti litigi proprio perché da sempre come esseri umani facciamo fatica a discutere e perché facciamo fatica a discutere? perché la discussione è un momento di messa alla prova cioè quando uno incontra l'altro che non vede le cose come le vede lui è messo alla prova e vorrebbe evitare quel confronto perché non piace stare con quelli che confermano le nostre idee che parlano come noi che usano le parole esattamente come le usiamo noi e invece facciamo fatica ogni volta che dicendo qualcosa sostenendo qualcosa l'altro eccepisce dice no fraintende non capisce quella parola l'avrebbe usata diversamente la vede in un altro modo rispetto a come noi abbiamo sistemato le cose a quel punto parte quello che è un collaudo cioè una messa alla prova se il mondo così come lo vediamo noi regge nei confronti degli altri però oggi questo problema effettivamente le tecnologie lo hanno approfondito aumentato alimentato perché e questo mi rivolgo soprattutto ma non soltanto ai colleghi che sono in sala perché oggi io e te come giornalisti come autori televisivi come persone che scrivono da un mezzo di comunicazione classico perché mi piace mezzi di comunicazione classici non tradizionali perché tradizionali sembra invece classici perché dureranno anche i mezzi di comunicazione nonostante internet il web e i social network i mezzi classici continueranno si dovranno riconfigurare si stanno riconfigurando ma dureranno è che noi abbiamo di fronte quello che un tempo era il cittadino mediamente informato quello che era il pubblico che noi potevamo prendere come ultimo ultimo anello della catena del nostro lavoro non è più così cioè un tempo questo ve lo dico perché io facendo il social media manager di trasmissioni televisive quotidianamente assisto a questa differenza di scenario prima la gran parte del lavoro dal punto di vista dei media era quello di lavorare moltissimo sul contenuto lavorare moltissimo sul programma lavorare moltissimo sull'articolo che stai scrivendo quindi che quel contenuto avesse tutti i crismi la qualità che fosse verificato che funzioni a seconda del genere e del tipo dopodiché questo contenuto aveva o una messa in onda o una pubblicazione da qualche parte e tutto sommato la gran parte del lavoro era finita dal punto di vista del giornalista e dell'autore una volta che il programma va in onda ed è ben confezionato il pubblico al massimo può vederlo o cambiare canale stessa cosa era con gli articoli di giornale al massimo il lettore può leggerlo o non leggerlo comprare un altro giornale cioè alla fine il cittadino mediamente informato quello che noi chiamavamo pubblico era l'ultimo passaggio la maggior parte del nostro lavoro era prima oggi è completamente opposta la situazione come sappiamo bene cioè nel momento della messa in onda nel momento della pubblicazione dell'articolo siamo solo all'inizio del processo perché da lì in poi incomincia la parte del pubblico la parte degli utenti dei lettori dei telespettatori che quel contenuto lo trasformano lo ricondividono lo contestano lo commentano lo rielaborano addirittura per esempio uno dei lavori di un social media manager televisivo è quello di seguire il live della puntata cioè mentre c'è la messa in onda ti occupi di seguire il racconto della messa in onda insieme agli utenti che lo stanno commentando raccontando contestando detestando eccetera ora questo fa sì che cambia completamente lo schema di comunicazione come sapete bene perché la discussione il fatto di confrontarsi su quello che sta andando in onda il fatto di discutere quello che è stato scritto il fatto di eccepire di poter dire qualsiasi cosa su tutto quel lavoro di contenuto che era stato fatto o almeno avrebbe dovuto essere no svolto perché non sempre poi il contenuto è così curato beh quella parte lì oggi è la parte più importante della comunicazione e ci ha messo in una diversa situazione perché noi eravamo abituati proprio con il concetto di share con il concetto di quante copie vendiamo con il concetto di gradimento da parte del pubblico cosa potevamo fare una cosa fondamentale fare una specie di cerchio in cui dire qui dentro è quello che mi interessa cioè quanti vedono il mio programma quanti leggono il mio articolo tutti quelli che non lo leggono che non lo vogliono che non gli rimangono fuori erano fuori c'era un luogo che era quello che ci interessava quanto siamo riusciti ad arrivare con il messaggio col contenuto eccetera e poi tutto il resto è quelli che non abbiamo raggiunto e quelli che ci hanno rifiutato qual è la novità oggi che tutti quelli che invece sono fuori dal luogo cioè fuori luogo quelli che contestano quelli che non ne vogliono sapere quelli che hanno frainteso quelli che stanno odiando il tuo contenuto invece parlano e si fanno sentire e sono lì nella tua conversazione durante la tua messa in onda sotto il tuo articolo in quei luoghi le contestazioni le discussioni anche scomposte soprattutto scomposte dico io vengono fuori e quindi io e te ma questo vale per tutti non vale solo per i giornalisti addetti ai lavori ormai vale per qualsiasi cittadino ogni volta che diciamo qualcosa ogni volta che emettiamo un messaggio per quanto curato avremo qualcuno che potrà in modo scomposto qualcuno che possa dire cose fuori luogo appunto che possa dire cose non avendo capito che possa dire cose perché non ne ha le competenze ma lo può fare proprio per definizione per quello scenario di interconnessione che prima vera ci ha spiegato perfettamente allora oggi comunicare in realtà è ritornare a curare moltissimo la questione delle discussioni cioè nessuno può più pensare di dire no ma io faccio soltanto quella prima parte io mi occupo di dire le cose bene di ben confezionarle perché perché la cosa che incontreremo sempre di più e questo è un effetto dell'interconnessione è proprio la differenza dell'altro cioè se siamo diventati tutti più vicini grazie alla connessione non è detto che siamo diventati dei buoni vicini tra l'altro se ci pensiamo bene la situazione tipica dei vicini è quella della riunione di condominio non so se avete presente che è il luogo per antonomasia del litigio e dello scontro cioè se le persone che condividono gli stessi spazi vitali abitativi quando si mettono a confrontarsi litigano pensiamo oggi che siamo diventati tutti dei vicini siamo tutti più vicini l'uno all'altro siamo sempre in una vita di confine in cui l'altro entra ed esce passa ai nostri confini non riusciamo a tenerlo lontano ecco è come una specie di riunione di condominio generalizzata e allora il lavoro che bisogna fare è proprio quello delle discussioni allora io stamattina tra le tante cose che volevo dire volevo un po' affrontare di petto questo tema delle discussioni perché qui si aggiunge un problema queste discussioni avvengono per iscritto questo è il problema cioè la discussione per iscritto in diretta botta e risposta è una condizione che come esseri umani non avevamo mai sperimentato prima della connessione e soprattutto come esseri umani non abbiamo mai allenato veramente nell'educazione a scuola nemmeno negli studi di comunicazione cioè noi ci siamo sempre allenati a fare due cose quando si scrivono testi si sta seduti con calma di fronte a un interlocutore noto con regole condivise e qualcuno che ci correggerà quel testo il tema è questo il tema è un testo scritto per un interlocutore competente che conosco che è il professore che me lo correggerà secondo certe regole i testi burocratici sono questi un'amministrazione mi chiede di rispettare certi canoni per poter eccetera eccetera adesso non facciamo tutta la casistica quando mai io e te ma nel senso del cittadino mediamente informato ha allenato la capacità di scrivere botte e risposte discutendo con persone che non hanno gli stessi criteri non hanno la stessa visione quasi mai infatti quello che facciamo è applicare con automatismo certe modalità del nostro discutere faccia a faccia lo applichiamo allo scritto facendo disastri e adesso le vediamo perché il fondamento del perché facciamo disastri è perché ci dimentichiamo di non avere quell'aiuto fondamentale nelle discussioni che è il corpo senza il corpo noi siamo non troncati nelle nostre capacità di comunicazione siamo proprio ridottissimi no? perché la voce lo sguardo l'intonazione la gestualità la presenza persino la gestione dei turni quelli che si infilano sempre mentre stai parlando quelli che invece ti ascoltano quelli che non danno feedback per esempio io venendo da Roma ed essendo diciamo avendo sangue del sud ho quella tendenza che hanno tutte le persone del sud Italia mentre parli costantemente dicono eh infatti come no hanno continue reazioni che ti incoraggiano a parlare invece più sali su e più l'altro per far vedere che ti sta ascoltando sta fermo immobile tanto che se tu prendi una persona del profondo sud la metti con una del profondo nord dopo un po' quello del sud mentre parli con il nord dici ma mi stai ascoltando perché in realtà lo fa per dire ma attenzione anche quello quelli sono tutti segnali che ci aiutano a dire le cose quando non abbiamo il corpo online per iscritto noi dobbiamo riuscire a trasmettere all'altro le nostre intenzioni nei suoi confronti usando solamente le parole che scegliamo le parole che non abbiamo scelto di usare sapete gli impliciti tutto il campo di quello che non abbiamo detto volutamente per intendere qualcosa terzo gli argomenti che le nostre parole formulano cioè con così poco noi dobbiamo riuscire a tenere la possibilità di comunicare con l'altro senza tutto l'aiuto che invece ci darebbe il corpo la presenza fisica i limiti anche che il corpo ci impone per esempio per esempio una cosa su cui non riflettiamo ma è abbastanza in una discussione forte accesa e anche violenta il corpo aiuta perché a un certo punto dal punto di vista di animale uno dei due molla se non altro per la presenza se si sta litigando pesantemente a un certo punto si fa una valutazione fisica sulla possibilità che se si finisce uno scontro con le mani se questo lo si fa online si è solo nell'ambito nel livello mentale e guardate che nel livello mentale si può andare all'infinito con la violenza non c'è il limite del corpo cioè quando si litiga faccia a faccia a un certo punto ci si mena diciamo così e in un certo senso pone un limite dell'eterio della discussione ma pone un limite se ci si se si litiga e ci si offende con le parole si può andare all'infinito nell'offesa verso l'altro e nella violenza verso l'altro allora quindi questo è il primo problema e perché è un problema perché anche io uso la lavagna perché non voglio essere di meno di vera grazie molto cortese il problema è fondamentalmente uno che noi a scuola nella vita eccetera pensiamo che la parte più importante della comunicazione alla fine sia questa no il contenuto lo so chi non legge tanto ve li leggo io il contenuto pensateci bene a scuola in fondo uno dice qual è la data della scoperta dell'America no non ve lo chiedo però tu dici qual è la data della scoperta dell'America e il professore ti mette un buon voto qual è il teorema di Euclide tu ripeti il teorema di Euclide il professore ti mette un buon voto la nostra scuola in fondo è basata sul fatto che noi dobbiamo conoscere dei contenuti e saperli ripetere e un professore ci chiede sapresti spiegare il teorema di Euclide di fronte a un interlocutore che non ha basi di matematica e di logica questa non è un allenamento solo sul contenuto ma sulla capacità che tu hai di presentare sostenere far capire quel contenuto di fronte ad un altro considerando il suo atteggiamento le sue capacità le sue competenze se ti vuole ascoltare o se non ti vuole ascoltare che è quello che noi sperimentiamo tutta la vita cioè la realtà è quella che è una situazione a tutta un'altra dimensione che è quella relazione scusate che io non le so fare come vera che è devo fare una se scrivo scrivo se parlo parlo quindi non è solo ciò che diciamo ma l'effetto che effetto ha ciò che diciamo sull'altro che ci sta ascoltando qual è la sua predisposizione facciamo l'esempio facilissimo ti vedo stanco contenuto un conto se è la compagna che lo dice al compagno quando lui torna la sera perché è tornato tardi al lavoro e gli dice ti vedo stanco è una frase d'affetto diverso è se la stessa parola stesso contenuto ti vedo stanco lo dice un collega a un altro collega che ha appena fatto un errore madornale sul lavoro ti vedo stanco e poi lo dice magari così certo ti vedo stanco stesso contenuto chiaramente la relazione fa capire che il significato è praticamente opposto e questo è sempre così ma noi ce lo dimentichiamo noi a volte riteniamo che il comunicare il discutere eccetera abbia a che fare puramente con quello che stiamo dicendo invece quel che conta è che in ogni discussione ognuno non è che arriva come un intelletto puro a sostenere certe idee ognuno arriva perché sta difendendo se stesso sta difendendo il suo mondo sta rappresentando in quella discussione tutto quello in cui lui crede tutto se stesso anche se la discussione è una discussione su questioni superficiali uno mette tutto se stesso per questo nei gruppi di whatsapp delle classi nei gruppi di whatsapp del pallone nei gruppi whatsapp più disparati si litiga così tanto perché in quelle discussioni per quanto sembrino su questioni secondari ognuno in realtà porta sempre di nuovo se stesso se anche solo ci ricordassimo questo in quelle parole che scambiamo sarebbe già un po' avanti ma vediamo il litigio perché litighiamo beh perché mentre stiamo discutendo di qualcosa in cui viene fuori un dissenso un vederla diversamente su qualche questione incomincia a deteriorarsi la relazione quello che diceva Platone incomincia a dubitare l'altro non sta parlando chiaramente ma poi c'è qualcosa come ma poi dice così apposta per si deteriora la relazione se qui mettiamo un più e un meno e se qui mettiamo un più o un meno quando si deteriora la relazione le due persone cominciano a litigare dal punto di vista relazionale viene meno anche il contenuto e infatti qui è proprio il litigio è quello con cui ho iniziato questo intervento il litigio è il modo migliore per porre fine una discussione perché perdendo la relazione con l'altro smetto anche di discutere non si parla quando si litiga finalmente non si parla più dell'argomento e guardate che tantissime volte utilizziamo il litigio volutamente proprio per tornare a casa ognuno con la sua idea così ho evitato il confronto allora nel tempo abbiamo sviluppato un'altra strategia che è quella di dire pur di rimanere amici pur di non litigare evitiamo certi argomenti e certi contenuti e questa è la strategia del consenso qui dentro diciamo adesso non abbiamo il tempo per fare tutto l'approfondimento qui dentro c'è di tutto fino al politicamente corretto però ci sono anche cose degne per esempio la diplomazia la mediazione culturale usa spessissimo questo cioè dice a certi tavoli andiamo togliamo certi argomenti per riuscire ad ottenere di mantenere un'amicizia di mantenere una collaborazione di mantenere un rapporto diplomatico quindi c'è anche un elemento positivo in questa modalità qual è il problema che proprio per la frustrazione dei litigi lo usiamo continuamente questo a tutti i livelli politicamente corretto nel dibattito pubblico abbiamo questa illusione che forse se evitiamo certi termini se evitiamo certe cose tutto andrà bene rimarremo amici e non litigheremo più nei rapporti di coppia quante persone dico questo argomento meglio che non affronto questo argomento perché se no chi la sente o chi lo sente perché vale per ambo i sessi però quante volte si dice che cosa succede che questa modalità ha creato una frustrazione enorme che viviamo quotidianamente tutti i giorni quella sensazione che di certi argomenti non si possa discutere è una frustrazione talmente forte che guarda caso i manipolatori cioè proprio quelli che poi usano la strategia del consenso usano l'argomento del dire noi siamo contro il politicamente corretto noi diciamo le cose chiare poi in realtà non le dicono né chiare né sono contro il politicamente corretto a loro volta usano sempre questa strategia ma è interessante che usino la frustrazione che viene da questo perché noi come esseri umani in realtà vorremmo andare fino in fondo negli argomenti cioè l'idea di discutere ci fa fatica ma è anche quello per cui viviamo cioè ognuno vorrebbe presentare il suo mondo agli altri ed esserne convincente altra possibilità è quella del discorso basato sulla ragione sul rigore scientifico sull'attendibilità sui discorsi fondati in cui tutta l'energia diciamo tutta l'attenzione è sul contenuto e la sua affidabilità e la sua qualità e diciamo della relazione con l'altro ci se ne preoccupa fino a un certo punto in un paper scientifico non importa se poi la cosa viene apprezzata se la cosa è interessante di per sé ma deve seguire certi criteri perché deve andare al contenuto qui c'è la battuta di Burioni se io faccio una palla di metallo piena e la butto in acqua affonda anche se ti dispiace cioè non è che posso dirti che non affondi quella palla cioè qui sono tutti discorsi che non hanno a che fare con come sarà recepito dall'altro sarà accettabile per l'altro sarà comprensibile perché il criterio è un altro allora alla fine nella comunicazione noi ci siamo sempre detti ci sarà un modo per andare fino in fondo nei contenuti per quanto possano creare differenze eccetera mantenendo la relazione con l'altro ed è quella che per decenni abbiamo cercato scusate non è felice no questa è l'idea dello share questa è l'idea delle tante copie vendute finalmente sono riuscito a produrre un contenuto che è stato accolto favorevolmente da una grandissima parte del pubblico questo è il sogno la comunicazione felice mantengo insieme contenuto in relazione a massimo livello ecco io oggi sono venuto qui al digit a dire che è ora di definitivamente sorpassare questa idea perché la comunicazione felice non è possibile la comunicazione che accontenta tutti non è più praticabile in realtà non è mai stata praticabile ci siamo illusi perché quel cittadino mediamente informato quel pubblico stava zitto seduto a casa sul divano al massimo cambiava canale oppure leggeva il giornale non gli piaceva e avrebbe dovuto prendersi la briga di scrivere una lettera al direttore che forse veniva letta eccetera eccetera e quindi in quella scenario potevamo dire la comunicazione felice ma perché selezionavamo noi chi parlava e chi no in uno scenario in cui parlano tutti invece la cosa più comune che accadrà in questa situazione è proprio che si incontrerà la differenza dell'altro il dissenso il fraintendimento l'incomprensione il qualcosa da dire in altre parole non possiamo più pensare di fare una comunicazione che metta tutti d'accordo ma di riuscire a comunicare proprio nel disaccordo nel dissenso nella differenza per questo io uso un termine ho riesumato un termine dal passato e ho dovuto farlo non per il fascino del passato ma perché certi termini come disputa è il termine quindi passare l'idea della comunicazione felice alla disputa felice e non ho usato perché belli i termini del passato ma perché i termini attuali come dialogo confronto no e non so quali altri possiamo usare sono tutti un po' compromessi ormai perché non riescono a esprimermi la questione fondamentale che c'è nella disputa che è il valore del dissenso pensateci bene il dialogo alla fine rischia di essere un po' che colui che è in posizione di potere rispetto all'altro concede il dialogo è un po' come il maestro di questo Adelino Cattani un professore di Padova si diverte spesso a far notare come certi detti che noi diamo per assodati siano in realtà molto discutibili per esempio quello per eccellenza è ogni salita è anche una discesa allora Adelino Cattani dice questo detto l'ha inventato sicuramente chi era in cima alla sedita già tra l'altro stava al fresco perché immaginatevi il 15 agosto dire a quello che sta in fondo no che la deve salire e dire guarda che questa salita è anche una discesa no cioè per far notare che spesso quelli che dialogano quelli che dicono bisogna confrontarci in maniera civile è perché stanno al caldo mangiano stanno bene non sono spaventati voglio dire una persona che non mangia che è spaventata che crede che gli stanno togliendo qualcosa adesso confrontiamoci liberamente per questo io uso disputa cioè dire o riusciamo a capire la differenza dell'altro il dissenso che ci sta opponendo e riusciamo a dire qualcosa a quello oppure non ne usciamo per questo ho riesumato questo termine non so quanto tempo ancora un pochino ce no e allora lo dice come si fa a fare la disputa felice vediamo alcune cose qui non possiamo esaurire l'argomento poi se volete lo trovate nel libro e negli altri libri sia miei che di vera dicevo prima uno dei problemi dobbiamo prima di tutto toglierci alcuni problemi nella questione della discussione il primo è che noi applichiamo alle discussioni scritte certe cose che facciamo faccia a faccia che sono altamente inefficaci per iscritto proprio perché non ho abbastanza segnali nei confronti dell'altro per fargli capire le mie intenzioni per esempio ci sono tutta una serie di espressioni di dissenso che noi usiamo in modo di senso sintetico pensate a quelle espressioni no non è così ma che dici non è vero non è vera questa cosa questo è falso cose che noi usiamo dal vivo fateci caso quando le usiamo con l'altro dal vivo accompagniamo moltissimo col corpo per esempio a Vera io le dico ogni tanto ma che dici Vera sorrido storco un po' la testa faccio così con la mano lei capisce che sì sto esprimendo dissenso ma in modo amichevole ho usato una scorciatoia per dirle che non sono d'accordo con lei perché me lo posso permettere perché siamo amici perché collaboriamo pensateci bene in un dissenso sintetico io non dico perché non sono d'accordo con l'altro io creo soltanto un'increspatura per dire mi voglio opporre a te ma non ti ho detto ancora perché infatti non è vero questo è falso ma che dici non sto argomentando perché ritengo che questo non sia vero non ti sto dicendo perché ritengo che quella cosa che hai detto non è giusta questi usi di dissenso sintetico per iscritto sono distruttivi un ma che dici o un non è vero scritto su whatsapp un questo è falso risposto a un commento su facebook creano immediatamente il litigio perché il segnale relazionale che danno all'altro è non voglio discutere con te altro tipo non posso credere che tu abbia scritto una cosa del genere ma ti pare una cosa da scrivere no possibile che scrivi così che cosa sono questi di nuovo non stiamo argomentando perché io ritengo che la cosa che l'altro ha scritto non sia all'altezza eccetera stiamo solo dicendo come segnale relazionale per iscritto quindi livello simbolico e mentale potentissimo gli stiamo dicendo io ho una posizione morale superiore alla tua dalla quale ti giudico giudico quello che hai scritto capite che da questo può derivare soltanto un litigio che ancora prima di cominciare abbiamo detto all'altro tu non sei al pari mio mentre discutiamo lui dice ma basta così poco beh sì è questo il punto altre cose gli argomenti i cosiddetti addominem questo è uno dei più usati in assoluto tu dici così perché sei donna no beh dici così perché sei giovane il classico ottimista che scrive questa cosa si va su una caratteristica personale dell'altro e la si mette in mezzo alla discussione come per dire che inficia il suo discorso il suo argomento dal punto di vista relazionale è un segnale negativissimo cioè io dico io non prendo sul serio come tu stai argomentando non ti prendo per quello che sostieni ma cerco di dire che hai delle caratteristiche personali che non ti rendono autorevole non ti rendono adeguato alla discussione capite che non può che essere un litigio questo infine le generalizzazioni quante volte diciamo questo è tipico di voi di sinistra voi credenti di te voi atei non potete capire questo prendo il gruppo culturale dell'altro lo generalizzo che quella quella sua appartenenza non permette non gli permette di argomentare adeguatamente il segnale relazionale che danno tutti questi usi che usiamo continuamente nei nostri scritti nel nostro modo di rispondere online compromette immediatamente la relazione con l'altro e non ci permetterà mai di dissentire senza litigare perché faccio vedere queste cose vorrei che non vorrei essere frainteso non è che sto dicendo quindi dobbiamo diventare tutti gentili carini cortesi educati no persone tranquille che non discutono con nessuno io sto facendo vedere questo perché queste cose compromettono la nostra possibilità di dissentire cioè quando le usiamo noi non riusciamo veramente ad esprimere il nostro dissenso davanti all'altro non riusciamo nemmeno ad incastrarlo a dire guarda adesso dobbiamo discutere della tua cosa non funziona ma ci serve scoprirle in noi perché se rinunciamo ad esse vedrete quanto dobbiamo ogni volta che dobbiamo esprimere una dissociazione sintetica è molto più faticoso argomentare perché non sono d'accordo con te senza utilizzare principi morali senza prendere le tue caratteristiche chiunque può sostenere qualsiasi argomento non importa e senza usare generalizzazioni a quel punto io mi devo focalizzare su una contro-argomentazione seria che funzioni e questo ci rende più capaci a noi di discutere ma fare questo lavoro ci rende più capaci anche di riconoscere nell'altro quando l'altro usa queste questi atteggiamenti perché all'inizio ci fanno tanto arrabbiare ma quando li conosciamo diciamo ah vedi sta usando un argomento addomine ma vabbè ah vedi questo è sdegno e mentre lo facciamo vedrete che quello che compare nelle scritte dell'altro nelle cose scritte dall'altro improvvisamente questa parte aggressiva diventa meno importante ai nostri occhi ed emerge la cosa fondamentale che deve emergere cioè l'argomentazione dell'altro che c'è sempre l'argomentazione e qui vorrei specificare una cosa che cosa intendiamo per argomento di nuovo qui noi nel nostro intellettualismo di solito crediamo che l'argomento abbia a che fare con questo cioè noi pensiamo che argomentare significa mettere in ordine dei concetti secondo una logica in modo tale che reggano e abbiano una loro diciamo portino a un rapporto causa-effetto portino a a sostenere qualcosa della realtà in realtà l'argomento è l'insieme di questi due l'argomento è sempre una persona che sta dicendo che posizione ha nei confronti del mondo nei confronti degli altri cioè è sempre un misto tra ciò che dico e in che relazione mi pongo io ogni tanto gli studenti gli faccio vedere una discussione su instagram che è una foto di francesco monte e il primo commento è ma vatti a nascondere cannaiolo e io gli dico ai miei studenti questo è un argomento vatti a nascondere cannaiolo questo non è odio online come noi ci piace dire l'odio online e quindi non si risponde vatti a nascondere cannaiolo è un argomento mal espresso non è un dissenso ben presentato ma la persona che lo sta dicendo sta dicendo io nei confronti di francesco monte mi pongo cioè dubito che francesco monte sia una persona seria cioè sta dicendo tutta una serie di cose le sta dicendo male le sta dicendo in modo scomposto le sta dicendo in modo violento ma c'è un argomento persino invatti a nascondere cannaiolo anche se è un insulto ovviamente è un insulto ma anche l'insulto è un argomento allora se uno se capiamo questo in realtà come si fa a dissentire senza litigare bisogna votarsi all'argomento perché in una discussione spesso diciamo bisogna mettere al centro le persone rischiosissima frase in una discussione online perché perché mettere al centro le persone può essere un paternalismo cioè l'altro è incavolato sta dicendo cose che per la sua frustrazione non diciamo dai stai buono stai tranquillo calmati datti una calmata è un paternalismo come si fa a mettere al centro le persone mentre si discute bisogna mettere al centro quello che stanno facendo cioè argomentando per quanto male prendere sul serio l'argomento dell'altro è veramente metterlo al centro tutte le altre operazioni sono forme di paternalismi quindi che è una cosa molto difficile da fare ma è anche l'unica che permette di discutere cioè io direi anzi che l'argomento prendere sul serio l'argomento ripulendolo di tutte le parti disfunzionali aggressive di insulto ci permette di scoprire qual è qualcosa del mondo dell'altro che è quello che lui vuole che vediamo chiudo perché non possiamo affrontare tutto con una questione di fondo se questa è la situazione vediamo se ho ancora qualche foglio se questa è la condizione del dibattito online abbiamo diverse strade allora una prima strada è quella di dire io non voglio avere nulla a che fare con questa roba perché per me si discute soltanto se le persone hanno voglia di discutere cioè se c'è un accordo preliminare sulla discussione allora di fronte a questo io dico bene non sono i social il posto dove fare la discussione con l'accordo preliminare perché io non posso decidere a priori chi discute e chi no sui social lo posso decidere in altri posti e tra l'altro sarebbe molto importante farlo in altri posti nelle scuole nei luoghi dove si può fare formazione bisognerebbe fare tutta una formazione al dibattito regolamentato alcuni lo fanno per esempio Adelino Cattani che ho citato prima è un professore che va in giro pure lui per l'Italia per le scuole a far fare dibattiti regolamentati ai ragazzi ma anche ai professori cioè ai docenti poi pure devono imparare questo ma quando si va sui social in una situazione in cui non c'è selezione all'ingresso in cui c'è disintermediazione io non posso porre il consensualismo cioè mettiamoci d'accordo prima su come discutiamo perché non posso pretendere questo e non posso neanche pretendere che il dissenso il dissenso scomposto le frustrazioni siano espresse bene se ci pensate è proprio un errore di principio io voglio va bene allora possono parlare tutti anche quelli che non hanno le competenze però per favore lo facciano come se fossero competenti educati e capaci a comunicare è un controsenso sto semplicemente creando un'esclusione che non potrò fare allora ci rimane soltanto una possibilità che è quella di dire devo accettare una discussione in cui non può esserci un accordo a priori su cosa riteniamo valido e cosa no non posso metterci in mezzo dei principi validi per tutti perché non è detto chi viene alla discussione verrà col suo mondo con i suoi principi che possono essere completamente diversi dai miei l'unica cosa che posso fare è posso fare qualcosa io come interlocutore io come interlocutore è importante perché va dall'io interlocutore come singolo cittadino nei miei gruppi di whatsapp nei miei luoghi su facebook va io come interlocutore come professionista comunicatore qualsiasi professione uno faccia ma arriva fino io come interlocutore istituzionale programma televisivo istituto culturale università ospedale quello che sia e che cosa posso fare io proprio mostrare con il collegiamento sono votati sapete che esiste tutta una riflessione e discussione delle cosiddette virtù argomentative cioè l'idea in una situazione in cui i dibattiti vengono male e finiscono i litigi e in cui non possiamo chiedere il consenso agli altri non possiamo imporre regole da fuori come facciamo a rimetterci le regole beh ci vogliono una serie di interlocutori che entrino in questi dibattiti vivendo delle virtù di fronte agli altri perché vivendo queste virtù argomentative uno fa un costante richiamo a chi gli sta attorno a vivere anche loro in quel modo allora uno dice come si vivono le virtù argomentative andiamo sul concreto quattro passaggi o cinque adesso non mi ricordo sono cinque anch'io ho i miei cinque uno uso sempre termini che sembrano desueti invece sono utili umiltà chi vive virtù argomentative dice io parlo delle cose che conosco quello che diceva Vera prima parlo veramente delle cose di cui sono competente e quando ne parlo ne parlo per quanto ne so io dichiarando quanto ne so io cioè per esempio dicendo questa è una mia opinione questi invece sono dei fatti questi sono degli studi non lo so queste sono le prove scientifiche fino a che fino al punto che io conosco perché magari ce ne sono delle altre che non conosco cioè il primo passaggio è ridurre il proprio perimetro che tra l'altro rende massimamente autorevoli le persone che veramente riconoscono ciò che sanno e ciò che possono dire diventano autorevoli al massimo ognuno di noi è re del suo vero castello che è molto piccolo ma è re lì mentre invece è ridicolo quando è nei territori di altri e cerca di spadroneggiare quindi questo è il primo punto il secondo punto il cosiddetto ascolto attivo questo è diciamo ci sarebbero ci sarebbe solo su questo perché ascolto attivo perché la maggior parte delle volte noi diciamo sì bisogna ascoltare l'altro in realtà noi ascoltiamo e leggiamo l'altro pensando già cosa dobbiamo dire noi pensando già come possiamo rispondergli cercando nelle parole dell'altro l'inghippo il problema a cui possiamo agganciarci per poter dare la nostra risposta non è un vero ascolto non è una vera lettura dell'altro l'ascolto attivo invece la chiave è quella di dire riesco a pormi le domande come se le sta ponendo l'altro non è mettersi nei panni dell'altro di nuovo mettersi nei panni dell'altro è l'empatia che sono importantissimi se rimangono solo quello diventano un rischio di paternalismo cioè come al solito ho sto poveraccio davanti che non capisce niente del mondo e io da grande signore che sono magnanimo sovrano concedo al suddito di dire qualcosa così lo controbatto il rischio è questo per questo dico ascolto attivo invece dire ma io di fronte a quest'altra persona che ha una completa visione diversa dalla mia magari con competenze inferiori a frainteso delle parti riesco a farmi le domande come se me le sta ponendo lui perché se individuo quelle domande potrò dare delle risposte è una bella fatica ma si deve fare terzo che è quello che stiamo già dicendo ritornare sempre all'argomento e per quanto l'altro comincerà a andare sul personale a provocare a dire ma c'è anche questo a fare il bene altrista tutte le manovre evasive che oggi non abbiamo analizzato ma esistono l'altro che incomincia a portarci intorno lo sforzo di ritornare sempre sull'argomento ma guarda che stavamo parlando di questo tema rimaniamo su questo e spiegare e rispiegare se voi seguite twitter o anche facebook dell'Accademia della Crusca vedrete che su ogni questione ovviamente viene posta loro rispiegano e dopo qualche ora qualcuno la ritira fuori con le stesse caratteristiche e loro continuano a rispiegare con grande pazienza e ritornano sull'argomento perché c'è bisogno di ritornare sull'argomento quarto sovversione cioè che vuol dire sovversione essere disposti a cambiare le proprie modalità di argomentazione noi di solito abbiamo tutta una serie di convinzioni che abbiamo argomentate nella nostra testa in un certo modo perché valgono per noi quegli argomenti di fronte all'altro che abbiamo ascoltato attivamente vogliamo rimanere sull'argomento dobbiamo essere capaci di vediamo se riesco a riargomentare a ricambiare il modo con cui argomento in base alle sue domande e vedere se funziona ancora il mio tema quinto vado veloce perché così vado a concludere e lascio spazio lo metto per ultima è la cosa fondamentale l'autoironia che è non è soltanto il semplice saper ridere di se stessi quello è un effetto dell'autoironia l'autoironia è mentre discuto costantemente guardarmi da fuori guardare da fuori che cosa sto facendo nei confronti dell'altro che atteggiamento che immagine do di me che cosa quanto mi sto accanendo su un tema che poi in fondo non è così fondamentale allora a volte anche solo una battuta su se stessi perché ci siamo un po' accaniti ridà fiato la discussione tra l'altro di solito chi è capace di autoironia fa un gesto comunque universale mentre l'ironia di per sé o peggio il sarcasmo cioè ridere di qualcun altro o ridere di un difetto altrui è rischiosissimo anzi di solito online proprio per la permeabilità di cui parlava Vera provoca senz'altro che andiamo a offendere proprio quello che ha quel difetto di cui stiamo ridendo si fa presente nella discussione eccomi io ci sono proprio fisicamente qua quindi non c'è niente da ridere sul mio difetto l'autoironia invece è universale perché quando uno ride di se stesso invita l'altro a vedere una persona capace di distacco e questo è sempre un richiamo universale a qualsiasi altro essere umano per quanto lo pensi diversamente tutto questo aggiungo qui un termine perché fare tutta questa fatica e concludo così molti tu questo è difficile eh un dice ma tutto questo sforzo delle virtù argomentative delle discussioni è uno può dire ma tanto l'altro poi non ne vuole sapere l'altro tanto l'altro non ascolta l'altro sta lì apposta per provocarti ma infatti le virtù argomentative non è che si vivono per convincere un altro ma si vivono perché si ha la consapevolezza che mentre facciamo le nostre discussioni online che siano su un gruppo di whatsapp che siano su un thread di facebook che siano su una discussione a botta e risposta su twitter che siano nei commenti sotto un articolo non hanno soltanto i due o più che si stanno scontrando non hanno nemmeno solo come su facebook quelli che mettono like cuoricino risatina ma non intervengono ma hanno un'altra fetta di pubblico ancora più grande che sono tutti quelli che leggono e rimangono in silenzio che tra l'altro sono gli interlocutori più importanti guarda caso sono proprio le persone che non dicono di getto quello che pensano sono proprio le persone che ci riflettono un po' sono proprio le persone più disposte a leggere prima di dire in altre parole sono quelli per cui le virtù argomentative possono essere richiamo alla necessità di discussioni che abbiamo oggi e l'effetto c'è io adesso non ho nessuno studio scientifico che lo dimostri mi piacerebbe averlo ma ho la mia esperienza personale negli account che curo e negli spazi che curo nel fare così da parte di un programma televisivo ma anche di una singola persona in un gruppo di whatsapp ma anche da parte di un professionista nei suoi luoghi dove fa le sue discussioni anche circoscritti se uno usa questo atteggiamento a mano a mano vedrà che piano piano alcuni esponenti di questa moltitudine silenziosa si fanno avanti perché cominciano a dire ma allora si può anche discutere qui quindi forse qualcosa da dire ce l'ho anch'io cioè il richiamo al dire rimaniamo sull'argomento con queste modalità può tirare fuori le energie anche di quelli che forse ogni tanto rimangono online un passo indietro ed è anche per questo che abbiamo questo clima così negativo nelle discussioni online forse anche perché proprio molti di noi stanno facendo parte di questa moltitudine silenziosa senza spendersi mentre ne abbiamo bisogno perché e concludo o in questo scenario di alto confronto fra differenze impariamo la differenza a costruirla a farla dissentendo in maniera efficace cioè esprimendo bene il nostro dissenso di fronte agli altri oppure la subiremo e subirla significa fare costanti litigi alimentare quei gruppetti che fanno finta di scontrarsi in realtà sono gruppi omogenei d'opinioni che dicono male di altri ma non si confrontano mai con quegli altri di cui dicono male e si fa questo dibattito pubblico fatto da una distesa di piccole cerchie di piccole bolle sacche che non si confrontano mai che è la manna dal cielo per il manipolatore che fa come il pifferaio magico passa col flauto e ci butta dentro una notizia distorta ci butta dentro un finto bivio oggi tutti contro questa cosa e tutti discutono di quella cosa schierandosi io sto di qua io sto di là e si porta dietro con sé il consenso cioè quasi non c'è neanche bisogno di manipolare perché l'atmosfera della non discussione che stiamo vivendo nel dibattito pubblico crea proprio le condizioni ideali per il consenso in altre parole qui bisogna costruire quel cittadino mediamente informato che siamo noi e che è il nostro lettore costante e che è il nostro interlocutore costante deve diventare un cittadino capace capace di esprimere il suo dissenso io penso che il futuro del nostro dibattito pubblico disintermediato passa da questa questione che è una questione educativa e culturale ma lo dico non dicendo quindi ci dovrà pensare la scuola quindi ci dovranno pensare le istituzioni anche ma dobbiamo incominciare io e te dal nostro punto dal nostro posto da quel castelletto che sono le nostre discussioni di oggi che faremo a provare a vivere qualcosa di simile grazie ecco qua una prima domanda quando ho detto che le facevo io naturalmente no perché ah sì scusa i dibattiti sono importanti io sono d'accordo allora volevo dire alla prima relatrice che potrebbe forse quando va nelle scuole evitare di dire screenshotta e cose del genere nel senso che lo so che è un terreno fertile per farsi ben volere eccetera però magari se uno butta là una parola italiana o una perifrasi italiana forse visto che è della crusca è meglio no questa è una prima cosa poi me ne verrà quindi la prima domanda è una critica e poi verrà risposta vediamo un'altra domanda salve dopo quello che ho ascoltato credo di non avere ben chiaro allora cosa sia un troll e cos'è trollare se mi spiegate vostro punto di vista grazie troll e trollare altre domande una domanda il dottor Pasteris molto interessante c'è una sola cosa che nel concreto forse manca la variabile tempo cioè tutti questi eventi che voi avete raccontato questi approcci e tutto normalmente poi avvengono soprattutto se parliamo di ambiti con molti partecipanti in tempi molto brevi e quindi il problema è gestire il timing scusate nel momento anglofo dal punto di vista di chi gestisce la pagina e invitare coloro i quali nella pagina interagiscono ad avere quella come dire quella esitazione prima di fare dei deliri ecco come si fa? altre domande anzitutto complimenti è stato molto interessante allora io ho una domanda se c'è un limite alla voler fare appunto la disputa felice nel senso che io appunto lavoro in una ONG come è stata citata e ci troviamo a volte a gestire delle pagine lavoriamo molto sull'immigrazione quindi potete immaginare il tono dei commenti che ci arrivano e delle volte noi decidiamo di non rispondere di bloccare anche di cancellare i commenti cioè quando il commento è camera gas li possiamo usare come cavie invece di sacrificare gli animali cioè noi ovviamente abbiamo una non siamo neutri non sono cioè sul mio profilo personale mi comporto in un certo modo però come istituzione chiaramente abbiamo bisogno quindi abbiamo una politica insomma una policy di gestione delle varie pagine e quindi mi interessava capire la vostra opinione soprattutto sul discorso proprio moltitudine silenziosa perché appunto credo sia un messaggio anche di dire questo tipo di commenti sono inaccettabili in un momento in cui sappiamo poi insomma il dibattito pubblico su questi temi eccetera quanto sia anche giusto o non giusto legittimare quel tipo di commenti rispondendogli oppure no ecco mi interessava una vostra riflessione grazie perché volevo dato che appunto avevo questa cosa volevo farvi complimenti soprattutto perché nella seconda parte avete parlato di una cosa che volevo notare nella prima quando lei ha detto parole perché è una cosa importante da dire è che le parole hanno un contenuto e per esempio noi facciamo per l'associazione co-housing in Toscana il metodo del consenso e la comunicazione non violenta il metodo del consenso qui non c'entra ma nella comunicazione non violenta molto spesso non si rendono conto che non è violento dire magari una cosa così anche un po' strana purché tu abbia internamente un certo modo di dirla cioè non ci si può limitare alle parole in altre parole grazie c'erano altre due domande no non ti far condice in effetti allora dicevo io sono d'accordo le parole sono importanti però la domanda che vi faccio è qual è il valore del silenzio la domanda Mario mi ha molto affascinato l'idea di recuperare il concetto di disputa mi sembra molto stimolante naturalmente disputa ci riporta col pensiero e con la mente a cose più antiche a cose medievali alle università medievali a queste robe qui e quindi però anche ad una all'altra faccia della medaglia della disputa non necessariamente ma che ci può essere e ci sta ed è l'apologia cioè il rischio che che in realtà ci si organizzi per apologie contrapposte diciamo così ecco altre domande nessun'altra domanda il relatore successivo ringrazia perché se no stiamo qui fino a domani dunque a proposito di screenshot io lo difendo perché è un'espressione sintetica ed è un tecnicismo lo posso dire in italiano come foto dello schermo potrei anche in teoria in uno dei miei scritti lo dico potremmo anche inventare un neologismo sintetico che spesso è il problema dell'italiano di essere analitico e non sintetico del tipo foto schermo schermo foto in questo momento storico però gli italiani sono ipersensibili in ugual modo nei confronti degli anglismi e nei confronti dei neologismi anche quelli italiani cioè sia gli anglismi sia i neologismi provocano la classica reazione e vi invito a cercare su twitter la sequenza orrendo neologismo troverete tantissime discussioni su questo è stato fatto a proposito di petaloso ma più recentemente a proposito di femminicidio o a proposito di qualsiasi altra cosa cioè si nasce dall'humus culturale umano una nuova parola italiana viene osteggiata quanto l'anglismo allora al di là del fatto che io sono solo una collaboratrice della Crusca e ci tengo a sottolinearlo quindi non parlo a nome dell'Accademia della Crusca ma collaboro con loro anche se dai tempi in cui avevo ancora il pandolone praticamente era una ragazzina piccola piccola e quindi non la rappresento la Crusca non ha mai avuto un atteggiamento di chiusura nei confronti dei forestierismi da quando esiste ma ha un atteggiamento di analisi dei forestierismi analisi dei forestierismi che porta a diverse possibilità alcune di acquisizione di come dire di usatelo pulismo perché in realtà la Crusca non è prescrittiva e descrittiva della realtà quindi può dire effettivamente questo anglismo ha senso e questo succede spesso in ambiti di tecnologie e di arti che effettivamente ci arrivano da l'estero e quindi da altre lingue vi faccio notare che sia l'informatica sia le tecnologie della connessione quindi internet e compagnia cantante sia i social network ovvero le reti sociali virtuali se vogliamo dirla all'italiana vengono da ambito anglofono quindi che in questo ambito ci siano più anglismi che in altri è abbastanza giustificato lo è peraltro molto di più che in altri contesti in cui l'inglese la fa da padrone ve ne faccio due di esempi la moda in cui troviamo robe tipo in questa primavera vanno il purple e lo yellow cioè il viola e il giallo non ho aggiunto niente a livello semantico a chiamarli purple e yellow tranne darmi delle arie e quello ovviamente del marketing e così via in cui si parla come ben sapete di mission di vision il how to la reason why ecco quelli anche io non li comprendo quindi io sono in una posizione abbastanza intermedia per questo dico difendo screenshot perché a oggi non esiste una versione breve cioè posso dire foto dello schermo istantanea dello schermo ma non è altrettanto icastico come direbbe Italo Calvino sono assolutamente contraria all'anglismo usato a caso e in generale io seguo i principi che enuncia ottimamente Francesco Sabatini nel suo bellissimo volume lezioni di italiano in cui dice allora prima cosa sincerati che non esista un termine italiano perfettamente corrispondente a quello che stai per usare in un'altra lingua per cui per esempio vernissage ha senso perché sennò devo dire inaugurazione di si capisce vado a un vernissage tutti hanno capito che sono di ambito artistico eccetera uno due accertati di sapere come si pronuncia e come si scrive e accertati che non lo stai usando per darti un tono questa è veramente la cosa secondo me importante che dice Sabatini che spesso i forestierismi soprattutto gli anglismi vengono usati per sentirsi più migliori assai quando quando non vengono usati volutamente per creare oscurità che è quello che succede invece spesso in ambito politico ambito politico e economico per cui se tu lo chiami bail-in fa meno paura se tu la chiami step-child adoption già metà della gente non lo sa dire quindi hai creato molti meno problemi peraltro a proposito di step-child adoption Sabatini aveva proposto adozione del configlio e è stato sbertucciato e sberleffato rispondo alle altre due brevissimamente scusa lo so che ti stavo no è che quando si parla di terminologia io poi entro in modalità ok troll e hater il troll è un personaggio che fondamentalmente si diverte cioè la grande caratteristica del troll da sempre era quella di creare sconcerto apposta cioè entro in un gruppo di vegani e dichiaro che a me la Fiorentina piace al sangue prendo una bomba a mano e la butto in mezzo al consesso e chi come si può dire abbocca alla provocazione del troll è chiaro che poi si copia di ridicolo alla fine perché il troll non vuole veramente argomentare vuole solo creare sconcerto possibilmente all'interno di un gruppo omogeneo all'interno di un gruppo omogeneo funziona molto meglio lo hater cioè l'odiatore è un'etichetta che oggi usiamo in maniera molto imprecisa perché a mio avviso e avviso di Bruno a dire il vero tutti quanti possiamo diventare odiatori il punto è che ci pungano sulla parte dove siamo particolarmente sensibili l'odiatore è uno che in linea di massima esprime in maniera scomposta e spesso offensiva anche inutilmente offensiva la sua opinione e di solito più è offensivo e meno è esperto di quello che va promulgando perché se una cosa ho imparato quando uno ha saldità di competenze saldezza di competenze rispetto a un argomento su quell'argomento è abbastanza pacifico anche in grado di condurre una disputa in maniera abbastanza tranquilla ma quello che io vedo succedere è che il problema maggiore è che l'odiatore in realtà si sta comportando come dicevo all'inizio in rete come se fosse davanti allo specchio mentre si rade la barba nel bagno di casa sua e quindi dice in pubblico delle cose che forse ognuno di noi nel privato del proprio bagno o del proprio salotto ogni tanto dice cioè noi non siamo sempre ineccepibili facciamo un sacco di battute politicamente scorrette xenofobe misogene miso qualcosa mandiamo a quel paese questo o quello io faccio sempre questo esempio giocoso mio padre anni 90 quando in radio passava il rappresentante del partito politico opposto alle sue simpatie quasi se la prendeva con la radio sto cretino e poi prendeva la radio e la sbatacchiava fisicamente solo che mio padre è un esimio professore universitario fuori dalla sua cucina quella cosa non l'avrebbe mai fatta spesso vediamo che l'odiatore online invece dai ne scandescenze augura la morte a Boldrini augura la morte a Salvini e poi si stupisce che tutti l'hanno letto oibo non pensavo cioè non pensavo di essere in pubblico in sostanza spero di aver chiarificato comunque se cercate i nostri nomi e queste parole chiave trovate abbiamo sommerso la rete di questi l'ultima cosa il silenzio l'ho detto ma forse forse è passato un po' in sordina è chiaro che la combinazione di contabilizzare bene l'uso delle parole e capire che non è come diceva come giustamente noi lavoriamo in sequenza io lancio il tema parole e poi lui lo precisa non è evitare di usare negro o evitare di usare mungoloide che ci risolve i problemi perché infatti io faccio sempre questo esempio per una donna professionista a volte l'offesa peggiore è signora cioè a me è successo un sacco di volte che ero dottoressa fino a un certo punto poi quando l'oppositore non era contento delle mie idee sono diventata la signora Geno la signora Geno assorata intanto tanto per alzare il livello della discussione però il punto è signora giovane finocchio come faccio a definire quando è offensivo finocchio e quando invece non lo è stessa frase oggi a pranzo ci sono i finocchi può essere un complimento all'ortaggio oppure un'offesa al tavolo di LGBT quindi ovviamente le parole sono importanti il silenzio è complementare cioè se io imparo a parlare quando posso intervenire a ragione e posso l'altro lato della medaglia è che sto in silenzio quando il mio apporto alla discussione non aggiungerebbe assolutamente niente invece di sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo non sono d'accordo non sono d'accordo non sono d'accordo quelle non sono contributi alla discussione sì proprio due battute io penso che i troll abbiano una funzione sociale importantissima nel dibattito e soprattutto quando rivolgono la loro attenzione trollesca ai forti nel dibattito perché sono il più grande controllo del punto numero 5 svelano subito se chi ha una posizione di forza nel dibattito ha un po' di autoironia allora si accorge del troll ci sa ridere assieme invece quelli che non hanno nessuna autoironia ci cascano si fanno trascinare dal troll meno bello dal mio punto di vista è quando il troll trolla chi è più debole nella discussione e lì c'è una forma secondo me di sì no diciamo è una forma in cui il troll è meno profigo nella discussione perché la cosa bella della discussione è mettere in difficoltà chi è in posizione di forza o almeno dovrebbe essere questa la forza umana della discussione e anche la modalità trollesca può avere una sua funzione un suo contributo tempo e limite in realtà il tema del tempo e del limite della disputa sono collegati dal punto di vista esperienziale io mi regolo così insulti follie incitazioni a crimini a fascismo cioè diciamo esiste tutta una una chiara un chiaro elenco di cose di per sé inaccettabili ma non ne discutiamo neanche ci sono addirittura i filtri su facebook bisogna ogni tanto aggiornarli con qualche parola che uno scopre in più che viene usata e funzionano abbastanza bene in realtà vengono vengono scurati subito i commenti non nemmeno appaiono nei posti quindi quello senz'altro però assieme a quello anche io metto un'attenzione che sicuramente non è il suo problema però di altri in cui poi dicono che è odio tutto quello che è di senso e poi incominciano a dire che è odio tutto quello che è di senso non espresso bene poi ancora peggio è odio tutto quello che è di senso non espresso come l'avresti espresso tu e allora incominciamo a entrare in un campo secondo me in cui questi filtri io direi parolacce insulti bestemmie e incitazioni crimini e crimini si possono cancellare tutto il resto va lasciato lì e nel va lasciato lì rispondo sul tempo allora il tempo io la vedrei in questa maniera non si devono controllare perché non si possono controllare gli spazi social se non in questa parte si possono controllare gli spazi social vanno come dire gestiti bisogna starci con i commenti degli utenti bisogna starci assieme e prendere delle decisioni sia in termini di tempo ma anche in termini in termini di energie se ne parliamo da un punto di vista professionale per il social media manager deve chiarire molto bene con i suoi datori di lavoro il tipo di impegno che può metterci in quelle discussioni perché guardate che può essere un lavoro chiaramente H24 tipo pompiere in cui uno sta sempre lì a gestire tutto o meno alcuni criteri che io uso io uso tre criteri quando incomincia una discussione soprattutto una discussione di dissenso e soprattutto una discussione di dissenso complicata difficile criterio della rilevanza quello che si sta dicendo è davvero rilevante per il mio tema per la mia identità per il mio diciamo quello che io rappresento nel mondo come programma televisivo come ONG come quotidiano quello che sia quindi se è rilevante per esempio se sono super quark e l'utente sta dicendo una cosa di scienza forte che ritiene e la sta dicendo male o bene come la sta dicendo la sta dicendo ma intacca l'identità di super quark ed è importante per me rispondere io devo rispondere perché è rilevante quel tema se l'utente dice Piero Angelo è stato impreciso e in realtà è semplicemente che ha semplificato una cosa e non poteva fare un paper scientifico ma forse non solo non è rilevante ma è importante anche che siccome è vero anche se è detto male io lo posso anche lasciare lì quel dissenso secondo criterio la sostenibilità cioè sono sicuro che nel rispondere a questo utente questa cosa avrà un effetto sulla moltitudine silenziosa proficuo positivo perché a volte è meglio il silenzio anzi è meglio che una frase scomposta resti lì la moltitudine silenziosa si fa meglio le sue idee con la frase scomposta che con la mia risposta perché la sostenibilità perché se no attivo e sono d'accordo con lei legittimo a un certo punto ogni tanto un tipo di tematica che non mi serve terzo punto che utilizzo perché bisogna dircelo l'influenza cioè è chiaro che se una volta è successo a un amico che sotto il suo non dico qual era l'account istituzionale ha fatto un commento scomposto di critica Lady Gaga su Twitter che ha non mi ricordo 10 milioni di follower beh è chiaro che lì in quel momento si deve fermare l'intera azienda e rispondere perché se ti critica Lady Gaga capisci che questo criterio vale ancora oggi se ti critica qualcuno che ha un pubblico 10 volte superiore al tuo se non 100 volte superiore al tuo lì in questo caso l'influenza vince su tutto perché anche quello è vero benissimo discutere con tutti con i più deboli però se poi è qualcuno che ti getta in mondi in cui tu neanche frequentavi devi rispondergli subito allora poi detto questo bisogna andare con la fiaccola perché non sarà mai un meccanismo ma è un organismo e quindi bisogna un po' il social media manager oggi è proprio qualcuno che deve curare una comunità scomposta e vedere cosa può fare però secondo me rilevanza sostenibilità e influenza sono tre criteri secondo me posto che si filtra tutto ciò che è insulto chiudo velocemente contro il tema dell'apologia della disputa e delle contrapposizioni è il tema centrale di tutto secondo me anzi direi che è il tema politico per eccellenza oggi infatti nel dibattito politico proprio a causa per ragioni della connessione ci stiamo muovendo sempre di più e ormai ci siamo assestati sulle contrapposizioni cioè la fondamentale politica di comunicazione attuale qual è? io faccio una sorta di sondaggio su quali sono le posizioni che voglio andare ad attivare dico qualcosa che attiva tutti quelli che hanno quella posizione per polarizzarli lì contro qualcun altro dall'altra parte ho l'altro che si schiera in quella posizione cioè sono tutte delle azioni da alzata di mano chi sono tutti quelli che hanno questa posizione e si riuniscono in like commenti in engagement che tra l'altro da un punto di vista anche monetizzano su internet il consenso perché poi i post che hanno più like sono più visti e diventano virali eccetera eccetera qual è il guaio di questo come dice benissimo lei che questo fa delle contrapposizioni che sono forme di apologia per gruppi che già sono d'accordo su quei temi hanno già quella posizione e quello che non provocano che invece dovremmo riuscire a trovare una strada per riprovocare e per riprodurre per un dibattito politico vero non è la contrapposizione ma è la contraddizione cioè riesco io a entrare nelle tue posizioni e argomentazioni e metterle in difficoltà con le parole cioè contraddire io riesco nel fare questo a vedere se le mie posizioni reggono alle contraddizioni cioè questo ci porterebbe a fare passi avanti invece attualmente la distesa di contrapposizioni monetizza un consenso in base a dove sta già la gente non è un caso mi pare lo stiamo vedendo che le posizioni che vanno per la maggiore guarda caso sono proprio quelle più ferme sono proprio quelle più di difesa in tendenza diciamo europea quelle di cui qualcuno cerca di difendere il proprio quello che ha perché glielo stanno togliendo cioè è proprio la posizione più ferma mentre tutta l'altra parte che è quella della solidarietà dell'apertura richiederebbe movimento dalla propria posizione ma per muoversi bisognerebbe entrare in contraddizione tema gigantesco che non possiamo esaurire ma esatto i neologismi hanno avuto più fortuna più tempo grazie a Bruno Mastroianni a Veragheno se posso permettermi sottolineerei una cosa che sta molto nel nostro lavoro e nella dimensione digitale in cui lo stiamo svolgendo che è poi la nostra vita e quindi un cappellino da metterci lui ha detto non è un meccanismo ma è un organismo la questione sta proprio lì cioè rispondere ai commenti gestire i commenti è un lavoro non è un passatempo non è una roba episodica è una roba che sta dentro nel nostro lavoro non ti posso mi spiace no se no Nicola Sarrabbia il prossimo davvero sono tanto si trovano loro grazie mille grazie davvero